E veniamo adesso alle anticipazioni dell'affichitone il segreto in particolare vi parliamo di quelle che vanno dal 27 ottobre 2014 al 31 ottobre 2014 ovviamente vi stiamo parlando di quelle in onda sulla rete ammiraglia delle SOV. E andiamo a cominciare. Alex Gadea e Megan Mantaner Lunedì 27 ottobre 2014, Dolores non smette di controllare Griselda, mentre Olmo comprende che tra Maria e Gonzale, Giordi Eccol, probabilmente è successo qualcosa che non dovrebbe succedere. Martedì 28 ottobre 2014 Donna Francisca inizia ad indagare sul Diagono Gonzale per vederci chiaro, mentre riceve una lettera dove c'è la conferma che potrà diventare sacerdote. Mercoledì 29 ottobre 2014 Raymond parla con Donna Emilia e gli racconta dei suoi problemi con Francisca. Mentre Gonzale informa Tristan, Alex Gadea, che Rayumundu e Alfonso sono direttamente coinvolti nella morte di Pepagir, Megan Mantaner. Giovedì 30 ottobre 2014 Tristan inizia il controllo dei dati da Frutus, il quale a sua volta rivolge accuse pesanti a Candela di avergli parlato dietro le spalle, mentre i peli Ita e Giselda sono vittime di incomprensioni. Venerdì 31 ottobre 2014 Maria si riconcilia con i genitori, mentre Gonzale inizia ad avere dei sospetti su Alfonso, e la sua convinzione che abbia altre informazioni sulla morte di Pepa aumentano. Mentre Frutus inizia ad infastidire Candela e Tristan inizia ad studiare come agire. Alla fine Gonzale cede alla passione con Maria. Grazie per la visione!